Arbostita sempre di più Grazie a tutti Cari Golden Chef Buongiorno E arriva da Napoli questo splendore di donna Il nostro sole personale Romana Baccarelli Buongiorno a tutti Allora intanto come stai Romana? Benissimo, benissimo grazie Voi la vedete? Questa donna è innamorata della vita Ma anche innamorata di un uomo che fortunatamente ha portato in studio Così anche Ilenia e io ci gustiamo un po' l'occhio Ciao Salvio E capitava qua Esatto Allora Gira mondo da sempre Zingara dentro Esatto Sempre il tuo motto cos'è? Gioire sempre Godersi la vita Divertirsi sempre Quello che dicevo prima Ilenia Per me il divertimento è alla base di tutto Ma non c'hai mai neanche 5 minuti di una giornata un po' con... Sì Ce l'ho però me la faccio subito passare Come? Allora dopo dovresti dare un po' di indicazioni Come? Dopo te lo dico Ogni tanto ci vuole un po' Ilenia per superare magari un momento un po' negativo Anche se noi qui in studio ci proviamo tutti Non come la porti avanti eh Romana Baccarelli presente su Instagram con le sue ricette Ricette che sono molto facili da fare Perché tu vuoi arrivare al cuore oltre che alla gola Esatto Poi metto la ricettina sotto Diciamo sono abbastanza generosa Sei molto generosa E con lei andremo a parlare ovviamente non solo di cucina Grazie Di gioia di vivere, di viaggi Come può diventare la vostra casa praticamente tutto il mondo Non mi pare che possa essere giusta come definizione Per cui restate con noi Faremo due ricette con lo nostro ospite Gli spaghetti con le zucchine La prima ricetta E la seconda ricetta La torta di mele La torta di mele La sua torta di mele Che è una torta veramente particolare, veramente buona Di conseguenza che cosa dovete fare? Stare qua con noi E guardarci che mangiamo le sfogliatelle che abbiamo in frigo No, le avete mangiate tutte Sì, oltre a poco Tutte le ho mangiate La nostra amica di Napoli Romana Baccarelli Innamorata della vita Stavamo dicendo Donna di mondo Viaggi di cui parleremo tra poco Ma se gentilmente, care le mie chef Vi allontanate Facciamo scendere Facciamo scendere subito la nostra lavagna Sulla quale appaiono gli ingredienti della prima ricetta Spaghetti con le zucchine Mi servono 4-5 zucchine 5 tuorli Una confezione di panna Olio extravergine di oliva Mi muovo come quello di Quark 200 grammi di Emmental 100 grammi di parmigiano Spaghetti, ovviamente Menta e basilico Ok? Ma perché c'è Napoli In Napoli si parla così Io amo molto Napoli Ma l'ho sempre vissuta di sguincio Mentre per quanto riguarda Ilenia Che ha imbarito di origine napoletane E abituata Esatto Lei è un amore viscerale Che non tre è per la città Grazie, è stato bello Ciao, arrivederci Guarda che è un regalo da poco Compiato di pasta Sai cosa puoi fare? E' un po' al dente per me Sì, croccantini Sì, un po' croccanti Cara romana Cosa facciamo? Allora, dobbiamo friggere le zucchine Tagliarle A rondelle Friggerle Ah, tacca l'olio Come prima cosa Vuoi che lo faccia io? Io ti aiuto Ok, facciamo insieme Ti aiuto, sì perché sono tante A rondelle sottili Sì, sì, a rondelle sottili Così facciamo prima Perché per un po' le facciamo così Il resto le facciamo alla scapece Che così ci facciamo il contornino Alla scapece Puoi rinfrescarmi la memoria? Con l'aceto, la menta Con l'aceto, la menta Sono buonissime Ah, bello Io faccio così Vado più veloce Ah, lo fai? Sì, sì Si dovrebbe fare anche con la mandolina Che è ancora più veloce Ah, è Le fa sottili, le fa perfette Perché le fa, eccola, brava Vediamo Però in versione casalinga È così Sì Ma tu cucini tutti i giorni Tutti i giorni Poi posti tutti i giorni Le tue ricette su Instagram Sì, sì Un giorno sì, un giorno no Tutti i giorni Cosa mi dice la testa? Che voglia ho? Esatto Se non devo uscire Allora, se sto a casa posto Se invece ho qualche cosa da fare Rimando al giorno dopo Sì, beh, tu non hai che Secondo me è più facile farlo a mano Vabbè Bene Vabbè, ce la facciamo Hai visto Ce la faremo Romana, ma le ricette nascono dal cuore Sì, devo dire Dalla voglia, ma nascono dal cuore Sì, e poi invento molto A me piace moltissimo Apro il frigo e dico C'ho questo E mi ingegno Dico posso fare questo Poi io adoro le spezie Quindi metto le spezie Metto tante spezie Devo dire È un periodo che sto usando L'aglio, la paprika Wow Quella fumicata Sì, mi piace moltissimo E quindi faccio tutto Sto usando molto le spezie Poi vado a periodi io Sì, ma penso che sia abbastanza normale Sì Solo che appunto Mi piace molto l'idea di avere degli ospiti Vero, Ilenia? Lo diciamo spesso A noi, per carità Sono passati degli chef Magari molto importanti Valorati Eh, immagino Però i golden chef di base Assomigliano più a me Che a Ilenia Perché io Di là di essere la donna Dell'olio del sale del pepe Come ben sapete Io continuo a dirlo Tu non ti applichi E per quello Se no tu saresti bravissima Sempre me lo diceva Eh, signora È molto intelligente questa bambina Peccato che mi si applichi Eh, vabbè Se è contenta del 6 Ma potrebbe avere 8 Ecco Tutta la mia vita Hanno detto questa mia madre No, ma veramente Ok E quindi parliamo anche della tua famiglia Attacca l'olio È attaccato l'olio Ah Dimmi che vuoi sapere Ma dai No Sparalo a 8 E dopo 8 Anche a 9 Ok Va bene così? Sta già bollendo? Eh, abbassalo un po' L'abbassiamo Senti, una cosa vuoi dire? Scusa che la televisione ingrassa di 25 kg 12 kg La tv No, abbiamo stabilito 15 kg 15 Abbiamo stabilito che ingrassa 15 kg Per cui non veniamo via Inguardabile Non mi guardate Guardate solo la ricettina No, piuttosto Perché non fate una Cioè, solo mani E veramente No? Metà Manco metà Manco metà Solo mani No, no Ti ricordi? Ci sto La vostra amica nuvole di sapori Non si inquadrava mai all'inizio Ti ricordi? Stefania Inquadrava solamente le mani Era una sua caratteristica Ma poi a grande richiesta Allora ho detto Scusa, va bene No, ma anche per Perché appartengono queste mani Metti anche la faccia Giustamente Allora, tre figlie Oh, ciao La raccellina è partita Tre figlie Tre figlie 29 29 24 5 E 19 Tre femmine Ecco, la 19enne Ma mi raccontavi che è innamorata pazza Sì, innamorata pazza Sì, sì, sì La seconda anche convive Con un DJ Sì, sì, musicista Sì, sì Sono felici Girano anche I DJ hanno facile Infatti mi ero già proposta Volevo piazzare uno dei due gemelli No Anche perché così La terza giornata Con una consuocera che sa cucinare Ci dividavamo insomma Il pranzo della vigilia Ma poi non solo sa cucinare Simpaticissimo Esatto Esatto Io non esagererei però con i complimenti Perché poi non lo conteniamo più Abbi pazienza Perché tu te ne vai a Napoli di nuovo con Salio No, ma parlava di lei Resta qua, eh Resta qua dopo Poi ce la aggiungiamo noi Sì, Ilena Guarda che è meglio di me Esatto Trovala Nessuno Allora Ora dobbiamo dividere Sì Mentre si riscalda l'olio Che possiamo cominciare a friggere Io ti grattugio le mentali Sì E io divido questi qua Perfetto Mi serve Sì, grazie Sei un tesoro Guarda, sono qui Vivo per questo Allora, mi serve però l'altra Che mia, posso prenderla? Vai, vai Tranquillissima Tu puoi muoverti Ok Come se fosse cosa tua Mi serve questa Quindi adesso tu dividi il tuorlo dall'albume Sì, perché si servono i tuorli I tuorli È una sorta di carbonara Chiamiamola Esatto Bra, potrebbe essere Ti va bene grattugiato così? Sì, sì Benissimo Ok Questo è un lavoro per te Questo è un lavoro per te Cristina Sì, domani Adesso sono molto impegnata Scusate se non posso aiutarvi Ma domani parola Sicuramente grattugio il formaggio Non passi più il sole, il sale, il pepe, l'olio No, no Ma io ho fatto delle cose molto importanti Anche mescolato Quando non serve Quando non serve Molto difficili Da circo bar non vorrei dire Mentre faccio il carpiato all'indietro Io queste le uso tutte Di solito le calcolo una persona e poi ce ne aggiungo una, due Un paio dopo La ricetta sarebbe per quattro persone Esatto, per quattro persone Più l'uovo in più che serve per la ricetta Un po' di più Ok In modo che facciamo un po' più di soggetto Allora, mi servirebbe Stiamo parlando di cucina napoletana Cioè la nostra cucina Sì, assolutamente Quella delle dosi abbondanti Io apro e prendo Sì, tu prendi Faccio tutto Assolutamente Sono le dosi di che non si sa mai Metti che arriva qualcuno Esatto Tu sei pronto Scusa, da voi com'è? Arriva gente Ma sì, dai, vieni qua Stiamo per prendersi a tavola Sì, sì, sì Mamma, sto arrivando con tre mie amiche Ok, vado in cucina Già io vivo in cucina Quindi non è che mi cambi molto la cosa Ah, quindi non ti dà noia se arriva l'ultimo momento qualcuno No, ma a me piace Io purtroppo sono anche ingrassata per questo Perché tutto quello che cucini Perché tutto il giorno so a casa E dico che faccio ora Vado in cucina a cucinarmi Quindi quando Salvio torna Trova brioche, torte Anche lui vuole fare la dieta Non riesce Perché poi io dico No, devi assaggiare Assolutamente Quindi anche nelle tue attività quotidiane Non hai contemplata praticamente la palestra o la camminata No Eh vedi No Ho comprato la cipria nuova per i sportivi Quella che ho addosso Che non fa sudare Ecco Perché guardate che attività Però posso dire una cosa Perché tu con nuvole Sì, ciao Stavamo parlando di Stefania Con timoivaniglia.com Sei anche un influencer Per cui dovresti spiegare A tutte le amiche che ti seguono Quando avete bisogno Non so di stare molto Con la faccia Come capita a me Che sono sempre a fare le inaglazioni Qua alla mia postazione Sopra il fornello Usate Questa nuova cipria Che non è una cipria Ma nemmeno è una È una specie di BB cream Polverosa Polverosa Ecco È una sorta di zucchero a velo Però colorato Zucchero a velo Non mi sarebbe venuto in mente E con questo praticamente Anche se vi viene Non so la vampata Perché Ilenia ha una certa età ormai Io anche a me Ilenia Non la vampata Viene anche a me Tesoro è il ciclo della vita Esatto Un po' privato È il nostro gioco di parole Il ciclo della vita Volevi dire Esatto Ecco Vi siete accorti Che Ilenia ha gli orecchini Con di iniziare il suo nome Ileana Ileana Ileane No comunque sì Allora Che cosa hai fatto di bello Allora Io ci ho aggiunto Un poco di menta E un poco di basilico Perfetto Nel tuorlo sbattuto Ora mi servirebbe Un poco di sale La donna del sale qui Sale fino O vuoi Sale fino Fino Il sale grosso solo nell'acqua Per la pasta Ok Quindi grazie Hai visto che occhio mamma Poi metto Il formaggio Lemmental grattugiato Sì Che Ilenia è stata brevissima Abbondante Sì Abbondante Togliamo anche questo La panna Questa è una ricetta che hai inventato? No questa è una ricetta che Mi ha detto mia sorella Tantissimi anni fa E che ora è diventata la ricetta Di tutti noi a casa Magari Sì Ma è un primo piatto? È un primo piatto Ma sebbene per una settimana No perché stavo pensando Che trasformarla anche In una torta Insomma Nella frittata di pasta Questa potrebbe Tutto vuoi fare La frittata Guarda noi a Napoli La frittata di pasta La facciamo O quando ci avanza La pasta Oppure la facciamo apposta Quindi condiamo la pasta Ok E facciamo la frittata Mamma che è spettata Sì perché per noi È buonissima È proprio Si deve fare Per andare a mare Allora Ti fai questa frittatina Vuoi stare di qua? Vuoi stare di qua? Le dai tu una mano con la pasta? Io ho messo anche il parmigiano Quindi tuorli Sì Menta basilico E menta al grattugiato E parmigiano grattugiato Io comincio a friggere Romana Esatto Sì grazie Sì perché poi Perché poi Direttamente appena fatte Vanno a finire qua dentro Ah subito Subito Dai Eh sì Più tempo stanno meglio è Perché assorbono anche Esatto Sì sì E poi un'altra cosa Che lo so ora mi ammazzerete No L'olio che resta Della frittura Va messo dopo Sulla pasta scolata Dai Eh E vabbè Facciamola sta roba Perché secondo me è buonissima E poi vi andate a coricare Esatto E che voglio vedere dopo Se ce la fa il principe Del controllo qualità Resistere questa ricetta No no Ha già detto Abbiamo un paio di minuti Ancora Non so Ce la facciamo a fare Un po' Buttiamo la pasta Cosa dici? Ma sì dai Anche perché l'acqua Mi sembrava che andasse Senti ma Tre figlie Allora Napoletana Tu hai preso Sei andata a Varese Sei rimasta a Varese Per un po' Poi a un certo punto Ha detto Sì io mi sono stufata Spalancavo la finestra Vedevo sto muro bianco Non capivo cos'era E i Varesotti Mi dicevano È la nebbia Cara romana Sveglia È la nebbia La nebbia Dopodiché sei tornata a Napoli Ma tu ti stava stretta Questa città Sì mi stava stretta Ma più che altro Perché volevo che le mie figlie Imparassero le lingue Che per me sono la cosa fondamentale Oggi della vita Certo E quindi abbiamo detto Andiamoceno a Miami Capite? Io dico Vabbè Diamo pego lotte di cone Invece le ho detto A me piacerebbe imparare lo svedese E quindi siamo stati là un annetto Poi ce ne siamo andati Io non volevo tornare Abbiamo fatto un altro annetto In mezzo a Madrid Mamma mia Poi Madrid Bellissima Ma io che vivo in una città di mare Non posso stare senza mare E quindi ho detto Andiamocene Andiamo a Nizza Ecco È bellissimo pure Nizza Tutti i dintorni È bellissimo Nizza molto bella Molto bella Mi è piaciuta moltissimo E poi ce ne siamo tornati Sì poi anche ho visto a San Blas Dove sei stata Sì sì ma ho fatto Ho girato un po' Che è la cipela Sì sì Cioè voglio dire Hai girato veramente tantissimo Sì ho girato molto Ma perché a me piace Quello è Per me il viaggio È proprio al primo posto Ma una con un cuore come il tuo E una solarità come la tua Quanti amici ha lasciato in giro per il mondo? È tanti Devo dire la verità E sono felicissima Famiglie, amiche, amici Ma sai che quando si dice Ah no Le amiche si contano sulle punte delle dita A me non è così Tu hai bisogno anche delle nostre punte delle dita Io ne ho tante veramente Ecco E noi aggiungiamo anche le punte delle dita Di Mirta Canevari Che ha un sacco di consigli interessanti Per voi anche oggi Che posso dirvi Io quando vedo La nostra donna della salute Mirta Canevari Intanto vi viene buon umore Mirta Bene grazie È arrivata buongiorno E poi parliamo ancora di pillole della salute D'altronde la donna della salute Può solo farci scoprire altre pillole della salute Con un detto che è molto antico Vuoi dirlo tu? Allora il detto di oggi è Una mela al giorno Toglio il medico di torno E io aggiungerei Per farvi ridere Due mele al giorno Ancora meglio Ancora meglio Questo perché La mela di cui parlo oggi È la mela nurca È un'antichissima mela Di origine campana Che ha dimostrato Un sacco di proprietà Tant'è che è stata definita Alimento funzionale E si è visto che Chi assumeva due mele al giorno Di questa particolare specie Aveva un'ottima protezione Nei confronti del colesterolo E vale a dire che Il profilo lipidico del colesterolo Veniva migliorato Abbassando le LDL Che sono colesterolo cattivo Così detto E aumentando le HDL Ok Questo perché La mela nurca Rispetto ad altre qualità di mele Che comunque sono valide Contiene un principio attivo Che è la pro-antocianidina B Che ha un'azione Altamente antossidante E che protegge dal colesterolo Pensavo che gli antociani Chiedo scusa Appartenessero solamente Non so ai frutti al verduro Ai frutti rosso Quella è la pro-antocianidina A Questa è la B Che ha un'azione diversa Insomma grazie Che così intanto abbiamo chiarito È una precessione Proprio sono due azioni diverse Sì 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 E la cosa curiosa È che I soggetti Che venivano monitorati Che assumevano queste mele Hanno evidenziato Che avevano un aumento Dei capelli Un infoltimento dei capelli Frena Allora avete capito benissimo Non sta dicendo Una cosa strana È uno studio scientifico Hanno scoperto Che la mela nurca Oltre a aver sistemato Infoltisce i capelli Esattamente Tant'è che Un estratto Chiaramente Di mela nurca Che contenga 400 mg Di questo principio attivo Di pronta cenidine Serve non solo A mantenere più lungo In vita il capello Perché spegne il fattore Che dice al capello Di morire Di cadere Ma anche L'inspesisce E aumenta la La cheratina Del capello Quindi si robustiscono Il capello è bello Robusto Tosto La cosa fantastica È che effettivamente È che effettivamente è stato testato Sulle donne in camioterapia Però purtroppo Perché ancora Hanno fatto grandi studi Per la caduta definitiva I capelli Soffrono fino a un certo punto Per una donna Soprattutto magari Dopo una malattia Diventa ancora Doppiamente pesante Invece con la mela nurca Con la mela nurca Io stessa preparo Un integratore A base di mela nurca Con delle capsule Che devono essere gastroprotette Perché devono arrivare Intanto all'intestino Dove c'è una massimizzazione Dell'assorbimento Ed effettivamente Ho avuto degli ottimi riscontri Tante tante persone Che tornano a ringraziarmi Io stessa Hanno provato Ed effettivamente Di chioma posso dire qualcosa Sì beh insomma Sei un esempio vivente Di questa cosa Che ci hai raccontato Per cui mela nurca Da mangiare Ma anche in estratto Che cosa viene? Diciamo È un concentrato Sì proprio un concentrato Tant'è che comunque In una capsula Si concentra tutto Il suo principio attivo E quando l'ha presa Proprio di mela Che buono Ma pensa che io La mela nurca Me l'immaginavo solamente Non so svuotata E riempita di cannella Pensavo così Al fuoco Invece fa bene Sia abbiamo detto Per il colesterolo Ma anche per la caduta Dei capelli Dopo che robe grandi Che ci hai raccontato oggi Contenti tutti quelli Che avevano un po' I capelli fragili Mirta grazie Prometti che tu vieni presto Volentieri Grazie È un piacere anche per me Adesso si cucina ragazzi Che vi devo dire Vi amiamo tutti Golden Chef A che punto siamo Romana? A buon punto Ok Allora le zucchine sono fatte Le stiamo togliendo E le mettiamo Dentro ai tuorli All'emmental All'alparmigiano All'amenta Tutto quello che abbiamo fatto prima Sì Quest'olio ci serve Non tutto perché è troppo Comunque non buttate No Assolutamente Anche perché è olio extravergine d'oliva Esatto E ora tutta questa Metteremo un poco di quest'olio negli spaghetti Sì E poi ci buttiamo Ci versiamo questo Ecco qua Allora spaghetti Allora questa la teniamo per la presentazione Allora posso venire? Sì sì vai vai Una cosa importante Avete visto che Romana non ha assolutamente passato le zucchine sulla carta assorbente No assolutamente Perché le ha solo raccolte e passate dentro la terrina Importante Ecco una cosa da precisare Utilizzando questo olio dobbiamo fare assoluta attenzione a non bruciarlo Quindi l'olio nel punto di fumo deve essere importantissimo da seguire Tu aggiusti di sale poi Aggiusto Certo Le zucchine Chiaro Che abbiamo appena fritto E poi tutto questo lo andiamo a mettere La famosa mappazza Sugli spaghetti La famosa mappazza Sì esatto Ma che è una buona mappazza Mamma mia ragazzi Con queste ci facciamo le meringhe Esatto E il calore va a cuocere le uova Sì non devono essere troppo cotte Deve venire proprio una cremina Aspettate che mi aiuta Vuoi un forchettone qualcosa? Sì grazie Vedo se Vado in cantina un attimo Scusami Vai vai Allora abbiamo una cosa così Anche va bene Poi abbiamo una cosa così Va benissimo tutto Abbiamo una pinza No quella no La pinza e la santa Tutto tranne no no Queste due no Via Via Oh sì Fra poco ti tolgo Non ti preoccupare Il ginocchio No benissimo Non ti preoccupare Io vi libero un po' il tavolo Grazie Ecco qua Sai che mi fa Il forchettone Venire l'acquolina Sta roba Oh ma è buonissima Mamma mia Cioè tu praticamente Ti svegli la mattina E dici aspetta Ma che faccio gli spaghetti Con le tue Io volevo fare tutto Eh vuoi? Sì Vuoi farlo? Sì Scusate No con questo Con il forchettone Non ce l'hai? No con questo Ok allora fai Vado Vai vai Quei 150 grammi di pasta Non di meno Perché insomma c'è No però poi la sera Non si deve mangiare No E mangiate questo a pranzo No veramente È pesante Ma è buonissima Merita tutto È un piatto Per tutte le stagioni Sì No perché sono le zucchine Eh va bene Sì Va bene le zucchine Che sono di questa stagione Sicuramente Però le zucchine Ormai si trovano Sempre Ragazzi Ecco poi Esatto Vabbè Allora io sono curiosissima Ragazzi come sempre Voi sapete Goldosh Perché questa è l'ora Di creare l'abbinamento giusto Con il vino giusto Grazie Ad Aisver Ma buongiorno Lorena Ciao Ben ritrovata Ben ritornata Che cosa hai preparato oggi? Spaghetti con zucchini Insieme all'ospite di oggi Benissimo Allora io ho portato Un bianco del Collio E una ribolla gialla Dell'azienda Cara Iade 2017 l'annata E è una ribolla gialla Perché avevo bisogno Di un vino Che mi contrastasse La tendenza dolce Dell'amido Delle zucchine E dei componenti Del piatto E poi anche Quella parte di grassezza Che magari poteva essere data Dall'utilizzo della panna O degli altri ingredienti Quindi mi serviva un vino Che avesse un'acidità Ben accentuata E quel tenore alcolico Che i vini del Collio Riescono sempre Ad esprimere E lo vediamo Nel suo colore Giallo paglierino Ancora con dei leggerissimi Riflessi verdi Bello lucente Vivace Cosa ci esprime All'olfatto? Delle sensazioni Che sicuramente Ricordano Delle erbette aromatiche Dei fiori bianchi E gli agrumi Questa buccia di agrume Quasi di cedro Che contorna Il profilo olfattivo Lo assaggiamo? Certo Eccola Questa acidità È veramente spiccata È vero E anche Si sente molto agrumata E quasi in un retro gusto Riesco a sentire Quella sensazione Di mentuccia Che è piacevolissima E rinfrescante Ho visto che è anche Una temperatura di servizio Fresca Si Perché per apprezzare Meglio Che cosa? Sicuramente L'acidità E poi per Addomesticare un po' Quel tenore acolico Che sappiamo Che nei vini frullani È molto spiccato Esatto Certo che si Allora noi facciamo Il nostro leggerissimo Cin cin E noi ci vediamo Tra poco Ci stiamo divertendo Un sacco Con la nostra amica Napoletana Romana Baccarelli Seconda ricetta A due chiacchiere in cucina Abbiamo lasciato da parte Quegli spaghetti Meravigliosi Ma insomma Si fa per dire Perché già È stata fatta La distribuzione Dei panni e dei pesci In qua in studio E il secondo piatto Sarà una torta di mele È una torta super classica Sì È una base di torta Allo yogurt E poi da parte Vassettiamo tutte quante le mele Con un po' di zucchero E un po' di cannella Le lasciamo cinque minuti Così E poi uniamo la torta di yogurt Viene buonissimo Una volta la chiamavano La torta dei vasetti Esatto Dei sette vasetti Ecco E hai fatto bene a portarla Perché noi ogni volta Diciamo che non Dobbiamo dimenticarci persone Io faccio sempre l'esempio Avete le batterie scariche Della bilancia Ecco Nessun problema Esatto È vero o no È meravigliosa Ogni volta che ti serve Tu vai E funziona E comunque la torta dei sette vasetti Allora Gentilmente Signore Ancora un po' di spazio Alla nostra lavagna Perché i Golden Chef Devono vedere Quali sono gli ingredienti Per la torta di mele Della nostra amica Romana di Napoli Napoletana romana Vabbè Torta di mele 250 grammi di yogurt All'albicocca 4 uova 3 mele Olio di semi Zucchero Farina Lievito E cannella L'ultimo è uno dei miei ingredienti preferiti Io sono contenta Che tu Io le mele Cannella e mele Tu le mele? Sì perché Sai quando ti viene fame Mangiati una mela Che ti viene ancora di più È vero Tu oggi sei un po' polemica Con quelle che quando cucinano Come fai tu Che dicono Guarda io quando cucino Mi sazio col profumo Che arriva in cucina proprio E invece non è credibile Perché c'è gente che C'è 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 Ma non sono io Allora le mele Se ci sono le mele Ovviamente bisogna sbucciare Esatto Le sbucciamo O no O lasci la buccia No Io questa qua Deve essere sbucciata E fatta a tocchetti Ok Ok Tu fai questo Sì Io vado avanti Vai Vedi che brava che è romana Cioè è una meravigliosa Cuoca che dice Ok tu fai questo Io faccio questo Comando Esatto Sei tu buono Ma com'è Magliani Cosa vuol dire Mimera Magliani Perché non riusciamo a immaginarcelo No Miami Sicuramente in questo momento Miami è bellissima È bellissima Però è diventata carissima Quando vivevo io Ci ho vissuto un anno Si stava benissimo Si poteva fare tutto Ora è diventata cara E quindi Non è più Insomma da tutti Bellissima E tra l'altro E tra l'altro La cosa carina Di Miami È che tu Le tue scelte Diciamo di vita Nelle varie città del mondo Erano molto legate Alla comodità Quindi grande città Ma posso scendere da casa E avere tutte le mie botteghe Non avevi bisogno Di macchina Miami sì Infatti La differenza È stata quella A Madrid A Nizza Assolutamente no Ho preso proprio Ho voluto una casa Aspetta aspetta Che stai passando No no vai Passaggio importante Sì Primo vasetto Primo vasetto Mettiamo lo zucchero E mettiamo Io prendo un cucchiaio Come vuoi Che poi si vai meglio Ecco Che era un po' Coduretto qua Perfetto Allora E mettiamo Due bicchieri Di zucchero Perfetto Poi ne metteremo Tre di farina Sì E uno di olio Ecco Bambini Questa è una torta Che potete fare Anche voi a casa Con nonna Con mamma O con papà Cubetti così Vanno bene Sì vanno benissimo Grazie Esatto Quindi due bicchieri Di zucchero Che poi è l'equivalente Del vasetto Da yogurt Esatto Ok Due E siamo a posto La donna dello zucchero Porta via Farina Oh era sale No sto scherzando Un colpo Che un attimo Far venire La pressione alta Da queste parti Sento un attimo Di sapidità Mescoliamo Mescoliamo un attimo Poi dopo useremo bene Le fruste Per amalgamare bene Allora io da italiana Penso sempre Quando vado all'estero Cosa trovo Cioè Da abitante però Non da turista Quindi tu riuscivi ad avere Tutti gli ingredienti Per poter Cucinare all'italiana Come volevi tu Il maiemi no Perché i salumi Non sono assolutamente quelli La mozzarella Non è assolutamente quella Non c'è il famoso salame Maie No No Maie Mese No ma pensa che là La pizza che chiamano pizza Pepperoni E ananas No no a parte Fanno Ma pizza pepperoni E pizza al salame Quindi tutta una tassoria Allora Un bicchierino Un bicchiere di olio E ora mettiamo La farina Perfetto Tre di farina Perfetto E abbiamo anche una frusta Sai No ma questa Ah c'è No c'è quella Sì sì Questa torta è veramente facilissima Velocissima E buonissima Quindi proprio Vedi che servo a qualcosa Veramente Guarda Non solo al sale Al pepe Alla farina Dimmi che tornerai a Napoli E dirai Mamma mia Se non ci fosse stata Cristina Non so Io per incerta Che cosa sarebbe Allora Io gli ho detto Apri un blog Aprilo Che così insegno Come tenere il vaso Alla farina Ma tu lo sai Che anche per chi No Allora ci sono blog Dove impari a cucinare Ascoltami Sì Io ti ascolto Se tu invece Aprissi un blog Con i tuoi disastri In cucina Sarebbe un successo Te lo dico Ho fatto 20 Fino adesso cambio braccio No tu pensi che mi ascolti Sì Ma me l'avevi già detto Solo che Enrico Avevo detto Enrico Ma io posso accendere Sì vai Faccio rumore Non fai niente Non c'è un problema Tu vuoi tutto il rumore Che ti scende Ok Questa te le taglio a fettine Esatto Con la buccia no Sì Questa con la buccia Ah boi Perfetto E mi togli però La parte centrale Sì No perché Lui ho chiesto Si occupa anche Di grafica È un graphic designer E io ho detto Mi dovresti però Creare una copertina Disastrosa Per far capire E lui ha detto No non posso Perché sono abituato Con Ilenia Che fa solo delle cose belle Quindi io niente Non sono entrata In questo giro Praticamente Allora Io vi ho portato La torta più semplice Che si potesse fare Sì chiaro Proprio per Allora ora metto Il lievito Sì Fettine così Fettine così Sì Ecco Allora in questo però Nel frattempo Ci mettiamo La cannella La cannella Che si devono insaporire Sì Abbastanza Quindi ecco Vedi che lei ne mette Parecchia di cannella Sì sì Vi senti Io pure Ma tu lo sai Che a proposito di Miami Nelle mie spine Della presa Io che adoro la cannella Ci stava il sapore Di cannella e mela Anche in macchina Nelle prese della corrente Per fare profumare la casa E anche nella mia macchina Il sapore era cannella e mela Ma perché sta roba C'è solo in America È bellissima Anche qua Io l'ho mai visto La comprerei per la macchina Bellissima È vero Senti Ti posso chiedere Un po' di zucchero Che ce lo mettiamo Qui Ecco Giusto un poco a poco Così facciamo rilasciare Un po' di succo Grazie mille Sai che nel frattempo Mentre voi Continuate a fare Le vere poche Io faccio Il garzoni di bottega E vado a Perché con tutta l'umidità Che c'è in studio Io metto la mela Sto aggiungendo la mela Sì Ok Ok Quindi sembra quasi Una torta Una torta scusa Strudel Per i sapori Lo ricordano un po' Sì È vero Il famoso Strudel di Napoli Ma infatti guarda Qua ci potete mettere L'uvetta che è buonissima Eh beh L'uvetta strezzata Si ci mettiamo Un po' di Nel rum Poi la strezzata Che è buonissima Qualcuno non la mangia Ce la mangiamo tutta noi Ma è una cattiveria gratuita La tua però Si è mangiato Gli spaghetti basta No non ha mangiato nulla Quasi Allora la torta L'impasto è fatto Questo è già fatto Sì Quindi Ok allora ti metto Un po' di carta forno Solo sulla base Sì Io vi faccio un po' A che non servono più Pulizia Niente più Grazie Niente più Perché tutto fatto Bene È stato bello Parlare con me Rifacciamolo Io ti ho sempre detto Perché non ti limiti A passare l'olio E il sale Ti paghiamo per quello Basta Mi pagate per quello Ma non umiliarmi così Che mi pagate per quello Speravo mi faceste anche La vanità Il pavimento Cristina puoi sempre Venire a Napoli da me Grazie Vediamo se riesco Porca miseria Che lo metto sempre scorto La Sì Brava Mi casa è tua casa Ok Vado La Perfetto Con cosa l'avevi fatto Ancora E che ho sbagliato Invece di schiacciare Il tasto grosso Schiaccio il tasto piccolino Olè Aspettate Olè E ci pigliamo tutto Perché lì c'è una fetta Io dico sempre Esatto Vedi che non si butta nulla Mannaggia Questi sono degli Arnesi molto Che te lo dico a fare Brava Vedi Guarda Una fetta Restava sulla ciotola Ecco qua Meraviglia ragazzi Voilà Eccoci qua Ora io faccio col ditino così Minimo Sì E se sei a casa Esatto Non si butta proprio niente No E poi prendiamo le fettine E come le piazze Così Ah di taglio Le facciamo fare tutto il girettino Ok Carino Che bontà Diciamo che Lenia l'ha fatto un po' con doppietta Però insomma Erano attaccate forse Ah Ma questa forse Allora su Instagram Ok Romana Baccarelli Sì Un giorno sì Un giorno quasi anche Praticamente potete trovare Le sue ricette Esatto Ricette che vengono testate Direttamente dal suo uomo Salvio E naturalmente dalle figlie Esatto Esatto E quindi stanno tutti bene Non è successo nulla Tutti benissimo Tutti belli in carne Diciamolo No dai Perché lo dici Eh Bello 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 Mi piace Ecco qua Vabbè insomma avete capito Sì Vi fate poi la ricolazione Temperatura Temperatura 180 Per 40 minuti E vale sempre la prova a stecchini Ok Per ogni forno poi Perché dipende dal forno Dipende dal forno Certo Ma dipende anche dalla dimensione Della teglia Della tortiera Sì Perché se lo stampo è tanto largo Quindi un 24 cm L'altezza sarà inferiore Quindi cuoce magari meno tempo Se invece lo stampo Ha un diametro più piccolo Ecco La dimensione in altezza E munitevi quindi anche Di una calcolatrice Perché non ho capito niente Mi sono già persa Però Ripetiamo per favore Quanti gradi 180 gradi Per 40 minuti Ma vale la prova a stecchino Tanto possono essere 45 Tanto 35 Dipende dal forno Tu hai forno statico Io ho comprato un forno Bellissimo Meraviglioso No Meraviglioso Dai Tutto vapore C'ha la cella Quella là per Dai Le pizza e il pane Da poco Da una settimana Ce l'abbiamo Cioè per ripetere il sonno Occupa la cucina E tutto il resto della cucina È nel salotto Esatto Ok Bella questa cosa qua È bellissima Perché il mio prima Era una schifezza E mi faceva tutto crudo Davvero Sì Quindi dovevo stare Il doppio del tempo Anche il mio forno Tu cuoci tutto crudo Sì Devi guardare La telecamera di Leo Cerca di farti inquadrare A Marco Rivolgiti a tuo marito Marco Esatto E il forno non funziona Tutto crudo Che vergogna Va bene Basta così? Sì? Basta così? Basta così Basta così Torniamo tra poco E parliamo anche di altro Ma vogliamo metterla in forno? Sì sì O la lasciamo qui? In forniamo? Ma sì dai Proprio perché Mangiarla cruda no sai Pare brutto Pare brutto Romana sei un mito Adesso invece Arrivano delle interessanti Offerte per voi Mi raccomando restate qua Due chiacchiere in cucina Yes Per farvi capire il cuore di Romana Baccarelli Ecco il cuore della torta di mele Che ha preparato Perché ovviamente non potevamo aspettare i 40 minuti della cottura Guardate il cuore di sta donna Meraviglioso Meraviglioso Questa non si può non mangiarla sta torta Un po' di zucchero a velo Un po' di zucchero a velo Ecco C'è molto semplice C'è molto torta della nonna Ma alla fine No? Quella è anche da colazione sai Quando torni a casa senti questo profano Guarda che Romana prima In un momento di pausa Ha detto che in fin dei conti A stare a casa Praticamente che cosa ci vuole Ad aprire il frigo ogni 5 minuti Mamma mia È dura quella cosa eh Ma anche non il frigo Le mandorle, le noche Tutto Io apro tutto Ma anche questo Cioè tu non puoi fare una torta E non assaggiare la noce Se magari è andata male Cosa fai? Butti una torta intera Certo Mentre le nostre due donne Parlano di controllo qualità Di altro tipo Andiamo invece a scoprire Il vino giusto Per la nostra torta di mele Responsabilità E rieccoci per un classico Una torta di mele Ben ritrovata Ben ritrovata a te Allora il vino che ho portato oggi È un po' insolito Nel senso che arriva dalla provincia di Ravenna In quel paese che si chiama Bagna Cavallo Dove nella Romagna insomma C'è sempre il sorriso nelle persone E nell'accoglienza La varietà da cui deriva questo vino Si chiama Famoso E in questo caso si tratta di uve appassite in vigna E che anche in parte subiscono la muffa nobile Quella Botrytis cineria Che conferisce poi quel particolare profumo di speziatura Si presenta con questo quasi brillante direi giallo oro Con dei riflessi che sembrano un po' topazio E ha questa bellissima consistenza e aderenza al calice Che poi si esprime attraverso quelli che noi sappiamo Questi archetti, queste lacrime che ne denotano la consistenza Olfatto intenso E che si esprime attraverso delle sensazioni magari di uva passa Di miele Ma non eccessivamente dolci Anche di una frutta disidratata Sì, un'albicocca magari Un'albicocca, esatto Assaggiamo Bellissima la persistenza Questa freschezza che ravviva il sorso E lo rende veramente agile E equilibrato per il tipo di abbinamento che dobbiamo fare Perché non eccede in dolcezza Ma anzi diventa piacevolissima la beva Molto molto interessante questo vino Allora Cinci Noi ci rivediamo tra poco e con te la prossima Che peccato avevo già finito con Romana la puntata di oggi Ma ritornerò a trovarci? No, io torno perché sono stata benissima Mamma mia, che bello Forse mi fitto una casa qua fuori Addirittura Ho deciso Sei cittadina del mondo Cittadina del mondo Allora, visto e considerato che a te piacciono comunque i ricordi Noi ti diamo il nostro gremio Grazie, grazie mille Quindi quando cucinerai Salvia Lo metterò Esatto, questo è un altro pezzo di cuore Ricordatevi naturalmente Romana Baccarelli su Instagram in particolare Dove troverete pubblicate tutte le ricette Salutiamo Salvio Grazie Che non ho detto, sta battuta bruttissima perché proprio volevo evitarla Il marito della Salvia E adesso ricordo anche ovviamente timoemaniglia.com Il blog della nostra Ilene Io mi dissocio Un abbraccio a tutti Grazie, grazie Buon caffè Ciao domani Scusa Salvia Ciao Scusa